Ciao a tutti amici di Eximabro.com e benvenuti all'estazione in diretta del vincitore per la chiave di Call of Duty a The Wants Warfare In questo caso abbiamo già preparato una lista dei partecipanti che hanno sottoscritto il nostro thread per la chiave di code Abbiamo ricevuto 137 partecipazioni, ora tramite il sito random.org Andremo ad effettuare l'estazione casuale del vincitore della chiave Abbiamo ricevuto 137 sottoscrizioni, mettiamo 1 che è il primo partecipante, 137 che è l'ultimo Clicchiamo il tasto generate ed attendiamo il risultato Il fortunato vincitore della chiave di Call of Duty a The Wants Warfare è dunque l'utente Noe Dark Quindi l'utente Noe Dark è il fortunato vincitore che verrà contattato dal nostro staff per la discussione della chiave di Call of Duty Ringraziamo dunque tutti i partecipanti al nostro giveaway in collaborazione con il nostro amico youtuber Lee Soo Long E vi possiamo dire rimanete sintonizzati su entrambi i canali per nuovi giveaway che ci saranno prossimamente Un saluto da lo staff, ciao